Al Safety Park di Wadena hanno preso il via i corsi di guida sicura pensati per gli over 50. Un progetto dedicato a quelle persone che guidano da molti anni, ma non per questo si sentono dei piloti. Un aggiornamento unito ad una serie di consigli sulle ultime novità, sia a livello tecnologico, sia a livello di segnaletica e di codice della strada. La sicurezza degli anziani, ma soprattutto di tutti i cittadini, ci sta veramente a cuore, in quel senso che la strada è pericolosa. Abbiamo un strumento molto valido, il Safety Park, dove possiamo fare e lanciare dei corsi per la guida sicura, in questo caso soprattutto per gli anziani dell'Alto Adige. E questo è importante perché è sempre da aggiornarsi sui pericoli delle strade, anche imparare le nuove regole, per esempio sulle rotonde, ma anche in nuovi mezzi, soprattutto con delle cose nuove anche dal lato tecnico, l'ABS, EPS, eccetera, dove gente che non l'ha mai provato, mai usato, non può sapere come funzionano. E questo è il nostro obiettivo che puntiamo con questo corso. L'esperienza fa sicuramente la differenza, ma è fuori dubbio che la capacità di reazione diminuisca con l'avanzare dell'età, mentre il traffico, in continuo aumento, richiede sempre maggiore attenzione alla guida. Un corso che permette ai partecipanti di ottenere preziosi consigli e di sbagliare, se nel caso, in totale sicurezza. Abbiamo presentato questo progetto l'anno scorso per riuscire ad avere un finanziamento attraverso il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. È stato reputato un interessante progetto, importante, e quindi sono stati anche stanziati relative fondi. Costo 129 euro, si comincia con una lezione teorica per poi passare alla pratica con esercizi di frenata, guida in curva, ma vengono fornite informazioni su come evitare ostacoli improvvisi. Non mancano poi consigli utili in tema di sicurezza e trasporto dei bambini, trasporto bagagli e controllo pneumatici.